Nuova truffa del Pellet, centinaia delle persone che hanno pagato a lei come SRL di Angera e Pombia, forniture mai consegnate. Appello di tutto il consiglio provinciale alla regione, è necessario stabilizzare i fondi dei canoni idrici. Sanità, il sindaco Marchionini ha convocato per le 20.45 di lunedì sera a Palazzo Flaim un'assemblea aperta. Gli eventi stivi hanno fatto crescere il commercio aronese, lo ha detto il sindaco al consiglio tracciando il bilancio dell'estate 2019. Nuovo pulmino per Updown VCO, tanti soggetti impegnati nel progetto, un tassello importante nel percorso di autonomia dei ragazzi. Nel basket la Gelsi compie l'impresa battuta alla Paffoni 62-56 e la sua prima vittoria in campionato, primo K.O. di un'unica. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia, in apertura di giornale la cronaca per raccontarvi di una nuova truffa del Pellet, questa volta in salsa nostrana. Truffa del Pellet. Centinaia di persone truffate fra VCO e Novarese. I gnari clienti si sono rivolti alla EICOM SRL acquistando forniture di Pellet mai consegnate. I vertici dell'azienda, con sede a Pombia e Angera, hanno prima chiesto un acconto, poi il saldo. Incassati i soldi, i titolari della ditta sono scomparsi e le sedi sono state svuotate dai materiali. I vertici della EICOM si sono resi irreperibili ai numeri di telefono e ai contatti via mail. Le consegne avrebbero dovuto iniziare nei giorni scorsi. Dopo i primi forfè si è attivato un tamtam via social, portando a galla la truffa. Oggi decine le persone che hanno deciso di portarsi presso la sede del gruppo a Pombia. Qui la triste scoperta delle vetrine vuote. C'erano però i carabinieri di Arona, che hanno così potuto acquisire le prime testimonianze delle persone truffate. Chiunque sia entrato in contatto con la EICOM, avendo versato meno caparre per acquisti di Pellet o legno, deve segnalare denunciando quanto successo alle forze dell'ordine. Una truffa orchestrata da veri professionisti, che hanno messo in piedi una campagna mediatica di promozione dei loro prodotti, che ha purtroppo coinvolto anche VCO Azzurra TV. La nostra emittente nei mesi scorsi ha trasmesso lo spot con le offerte della EICOM SRL, che dalle normali verifiche effettuate si presentava come un'azienda con tutti i requisiti standard. La nostra emittente quindi risulta essere parte lesa nella truffa, atteso che EICOM SRL è anche insolvente. E anche noi nel corso della giornata di oggi abbiamo più volte provato a contattare EICOM SRL, all'altro capo del telefono per i numeri fisso e mobile, solo la compagnia telefonica con trasferimento di chiamata alla segreteria. Siamo ovviamente a disposizione qualora l'azienda volesse chiarire la propria situazione. E ora ci occupiamo ancora una volta delle finanze provinciali. È un vero appello quello che il Consiglio all'unanimità ha deciso di lanciare alla Regione Piemonte. Porta la firma del Presidente Lincio e dei capigruppo di maggioranza e opposizione Albertella Egnocchi l'appello lanciato dalla provincia del VCO alla Regione Piemonte. È l'ennesima sollecitazione partita da Via delle Industrie alla volta di Torino, perché i fondi derivanti dai canoni idrici diventino disponibilità certa per le casse provinciali. I 9 milioni di euro stanziati con delibera regionale la scorsa settimana dal governo Cirio sono l'ultimo atto del litro amministrativo della transazione concordata in primavera fra provincia del VCO e l'ex governo Chiamparino. I fondi che saranno nella disponibilità provinciale nelle prossime settimane serviranno a saldare patture pregresse, a pagare gli stipendi del personale, oltre che a sostenere i costi fissi che ogni mese si aggirano attorno ai 450 mila euro. Parte da qui, da questa considerazione, la decisione unanime del Consiglio provinciale di fare pressing sul mondo politico regionale perché la partita si chiuda definitivamente. E non è certo una novità. Nessuno pensi che i problemi economico-finanziari dell'ente siano finiti e che si possa ora fare investimenti, rimarcano i tre nel documento inviato a giornali TV. Per il futuro si guarda con ottimismo al disegno di legge a cui sta lavorando. A Palazzo Lascaris il capogruppo leghista Preioni. Una proposta per riconoscere l'autonomia al VCO e dunque anche quei circa 16 milioni di euro derivanti dai canoni idrici. Questo per il futuro, ma per l'immediato. La situazione deve essere definita già nei primi mesi del 2020. Diversamente si torna indietro di 12 mesi con tutte le criticità nuovamente a galla, spiegano dalla provincia. Servono azioni condivise, uno sforzo congiunto e coeso di tutte le istituzioni, le forze politiche, economiche e sociali, affinché la Regione approvi con la massima urgenza un provvedimento legislativo che garantisca in forma fissa il trasferimento alla provincia del VCO dal 2020 dei proventi dei canoni idrici, sottoscrivono Lincio, Albertella e Gnocchi. A Verbagna il tema della sanità scalda agli animi. Il sindaco Marchionini ha convocato per lunedì sera un'assemblea pubblica. Intanto sulla materia oggi si registra anche la presa di posizione del Presidente del Consiglio di Verbagna. Tutti convocati per la sanità pubblica. In vista della prossima riunione il 25 ottobre con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel timore che possa prevalere la linea già indicata dalla Lega in campagna elettorale per la privatizzazione del Castelli di Verbagna, il sindaco Silvia Marchionini chiama tutti a raccolta. Lunedì sera, 21 ottobre, a Palazzo Flying, dalle 20.45 si terrà un'assemblea alla quale sono invitati politici, amministratori, personale dell'ASRA, associazioni di categoria. Coerentemente con quanto sempre affermato, spiega Marchionini, riteniamo che l'unica scelta per rilanciare una sanità di qualità per tutti i cittadini del VCO sia quella della costruzione di un nuovo e moderno ospedale in zona baricentrica della nostra provincia, affiancato dal potenziamento dei servizi territoriali a partire dalle case della salute. Prosegue il sindaco. La speranza è che il presidente Cirio e l'assessore alla sanità regionale abbiano recepito le indicazioni evidenziate dal territorio in queste settimane, indicazioni chiare e nette arrivate dalle categorie professionali, dalla gran parte dei sindaci, dalle categorie economiche e sociali, tutte a favore di un nuovo ospedale con una sede baricentrica. Il contrario vorrebbe dire l'ennesima battaglia distruttiva tra i territori del VCO e una sanità meno efficiente. Sul tema interviene anche il gruppo Insieme per Verbagna di Gian Domenico Albertella, presidente del Consiglio Comunale, che spiega come la privatizzazione del Castelli sarebbe inaccettabile e impraticabile. Si legge un comunicato, ciò comporterebbe per Verbagna la perdita del proprio ospedale pubblico e del DEA. Se questa dovesse essere la scelta della regione, ci opporremo, invitando alla mobilitazione i verbanesi e tutte le comunità del Verbano. In questo caso pretenderemo, come stiamo dicendo da mesi, il mantenimento del DEA e il potenziamento dell'ospedale Castelli. Imprenditori stranieri ad Anzola per vedere da vicino le eccellenze dell'industria locale. OM DC Group di Anzola Dossola è l'azienda scelta quest'anno per organizzare l'annuale meeting dell'Associazione Internazionale dell'Industria della Tungsteno, rendezvous di settore, giunto alla 32esima edizione, che ogni anno richiama circa 350 persone che a vario titolo operano nel mondo dell'industria del metallo pesante. L'azienda di Anzola Dossola, ben affermata a livello internazionale, è oggi uno dei fiori all'occhiello dell'industria locale. È leader nel settore metalmeccanico mondiale. Su scala locale conta 10 imprese, 7 stabilimenti dislocati sul territorio e circa 300 dipendenti. Il meeting è servito per far conoscere da vicino questa realtà, che da oltre 70 anni opera nel mercato mondiale. gruppo che da lontano 1948 fa capo alla famiglia Tedeschi. Ed è stato proprio Alberto Tedeschi, amministratore del gruppo, ad illustrare agli ospiti stranieri la storia e lo sviluppo dell'OMDC e dei suoi prodotti. La quattro giorni si è infatti sviluppata su due piani, accanto alle conferenze di battiti ospitati a Stresa dall'hotel Regina Palace. C'è stata anche la visita ai siti produttivi di Anzola, cui gli ospiti hanno visto da vicino come si opera negli stabilimenti Films e Scleros. Confidiamo nel fatto che questo evento contribuirà ad arricchire la nostra esperienza, il nostro bagaglio culturale e porterà effetti positivi non solo per la nostra realtà industriale, ma anche per l'intero territorio. È stato il commento degli organizzatori. Le manifestazioni promosse nel corso dell'estate ad Arona hanno dato i loro frutti. E' quanto ha detto il sindaco Gusmeroli, rispondendo alle domande dei consiglieri di minoranza circa la riuscita degli eventi denominati Lake and Shopping. Arona deve essere un modello per le altre città del Lago Maggiore sul tema di favorire il commercio attraverso l'afflusso di visitatori. Lo ha affermato il sindaco Alberto Gusmeroli nell'ultima seduta consigliare. Per dimostrare quanto è stato fatto in città, il sindaco ha proiettato un filmato di 4 minuti e mezzo sugli eventi che sono stati promossi durante la scorsa estate. Dal ping pong rosa, alla serata di luce, suoni e acqua, ai concerti di albero, freso e via via. Ai consiglieri di opposizione Antonio Muscarai e Alessandro Travaini, che chiedevano i numeri relativi all'incremento del commercio aronese, Gusmeroli ha risposto che si è registrato un buon incremento per quanto riguarda il mese di luglio, mentre agosto si è rivelato stabile rispetto ai dati già alti del 2018. In merito ad Aruna a Lucky Shopping, i costi per l'amministrazione comunale ammontano 52 mila euro, mentre l'intervento dell'intera manifestazione è costato 127 mila euro, saldati con i contributi di sponsor, privati e istituzionali e con l'intervento del Ministero della Cultura. Positiva è stata l'apertura serale dei negozi di via Cavour e via Limitrofe a Lungolago. Se i visitatori non hanno acquistato subito, sono però ritornati in città dopo aver preso conoscenza delle attività commerciali presenti. A Aruna a Lucky Shopping, Christmas avrà una coda autunnale-invernale, già a partire dal prossimo 24 novembre e sino a fine anno. Ci saranno mercatini di Natale e la prosecuzione di manifestazioni per attirare i visitatori in città. Gusmeroli ha poi affermato, ho letto sui giornali, che ben 15 negozi chiuderanno l'attività a Stresa. A Aruna invece hanno riaperto le serrande attività chiuse sia in via Torino che in via Roma. Il parlamentare si propone per esportare il modello Lucky Shopping anche a Stresa, Baveno, Verbagna e Cannopio. Riunione al Tecnoparco Vertice dedicato alla protezione civile. Sentiamo. Incontro in occasione della prima settimana nazionale della protezione civile ieri pomeriggio al Tecnoparco, convocata dal profetto Iginio Olita. All'incontro hanno partecipato rappresentanti della provincia, dei comuni di Verbagna e Omenia, vigili del fuoco, volontari di protezione civile, ufficio scolastico provinciale. È stato condiviso il documento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è parlato della cultura del volontariato, fortemente radicata sul nostro territorio. sottolineata l'importanza della prevenzione nelle scuole per aumentare la consapevolezza degli studenti sulla sicurezza negli ambienti di studio di lavoro. Il prossimo 5 novembre, giornata regionale della protezione civile, alcuni studenti visiteranno le strutture della provincia. I volontari, insieme ai vigili del fuoco, organizzeranno una serie di incontri anche con la proiezione di video. Per l'anno prossimo sarà organizzata una mostra fotografica per mostrare l'operato dei volontari. Donare per crescere. Siamo allo spazio del giovedì in collaborazione con Fondazione Comunitaria e VCO. Sicurezza sul lavoro in primo piano, tema di grande attualità, l'ultimo grave incidente solo nelle scorse ore. Nei giorni scorsi l'annuale festa dell'Anmil, che ha invitato tutti a riflettere sul tema. Dalla Fondazione, un contributo a sostegno dei familiari, dei morti sul lavoro. A fianco delle persone, delle famiglie che hanno avuto infortuni sul lavoro, adesso scende in campo la Fondazione Comunitaria del VCO. Con un'opera che è quanto mai concreta, a favore dobbiamo ricordare inizialmente, almeno, delle famiglie di chi ha avuto infortuni gravi, mortali. Sì, è proprio così. Noi abbiamo aderito a un invito del prefetto del Verbano Cusiosso, la dott. Lolita, che ci ha chiesto di dare un contributo per mettere insieme un protocollo, un'alleanza, un'intesa, a sostegno e a favore dei familiari, quindi le vedovi, i vedovi, i figli, di chi dovesse perdere la vita in un incidente sul lavoro. Noi abbiamo aderito più che volentieri perché la Fondazione Comunitaria è nata, è nata per dare risposta soprattutto ai bisogni sociali della nostra popolazione. Quindi abbiamo messo a disposizione un primo intervento di 10.000 euro che verrà poi gestito sulla base di un regolamento che abbiamo affidato all'INAI di predisporre. Però noi siamo qui appunto a disposizione e credo che questo regolamento che ormai è in fase di approvazione indicherà esattamente quali interventi noi potremo fare. Ma perché sei arrivati a questa iniziativa precedente? C'è qualcosa che in modo particolare magari vi ha colpito? Noi siamo colpiti ogni volta che vediamo che c'è qualcuno che ha bisogno, sia anziano, sia disabile. Ecco, questo tema degli infortuni sul lavoro ci ha particolarmente colpiti perché pensiamo che soprattutto nei primi momenti forse ci sono anche delle esigenze economiche da affrontare in attesa che arrivi la rendita, che arrivi gli esercimenti. Magari ci sono, che ne so, le tasse scolastiche del figlio, c'è l'affitto da pagare. Ecco, in questo caso un piccolo contributo certo non può cancellare il dolore, però può dare un aiuto. Il protocollo nasce come un supporto. Per prima cosa ho inteso un supporto psicologico, quindi l'attivazione di tutto quello che è possibile fare per il superamento, ovvero sia possibile, ovviamente, del lutto traumatico che è avvenuto. In questo ci darà una grossa mano sicuramente l'azienda sanitaria con i suoi professionisti, ci darà una grossa mano anche l'Associazione Nazionale Mutilata e Invalide del Lavoro che farà da intermediaria con la fondazione comunitaria del VCO per la reggezione di questi fondi. Siete voi che intervenite direttamente oppure è la famiglia dell'infortunato che deve fare richiesta? Quando c'è un evento grave, un evento mortale, interviene subito l'INAE appena ne viene a conoscenza. Ed ora il nuovo pulmino a disposizione dei ragazzi dell'Huffdown verbanese. Manca però un garage per il mezzo nella zona del Verbano. Se qualcuno potesse metterlo a disposizione del sudalizio gratuitamente sarebbe il benvenuto. Finalmente abbiamo un nuovo pulmino. Domenica scorsa l'abbiamo inaugurato. Rosalba è stata la fine di un lungo percorso. Sì, Davide. Davide ma anche tutti i nostri ragazzi sono stati bravissimi perché hanno collaborato tutti, devo dire tutti, ragazzi e famiglie alla raccolta di fondi e dopo quasi due anni ce l'abbiamo fatta. Abbiamo acquistato il nostro pulmino! Perché prima avevamo delle difficoltà con una macchina, due macchine, chi va, chi non va. Chi ci ha aiutato? Allora ci ha aiutato veramente insomma tutta la provincia con la Fondazione Comunitaria che è stata per noi un partner importante, molto importante. L'Umana, che ha svolto un lavoro eccezionale. Intra insieme, la Domus Sicula, un sacco di altre associazioni e poi questa meravigliosa persona che domenica scorsa ha preparato un buffet straordinario per tutti i presenti e per tutti i partecipanti. Il nostro grazie è veramente per tutti coloro che hanno aiutato l'associazione all'acquisto del pulmino. Ragazzi, grazie! Tutti, grazie! 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 Andrea, che cosa serve il pulmino? Beh, innanzitutto questo pulmino serve soprattutto per accompagnare i nostri ragazzi alle vacanze e durante i weekend che organizzeremo durante l'anno e soprattutto per conoscere le varie realtà che si trovano sul territorio. Andiamo! È vinto e onde? Visto il successo dello scorso anno un nuovo corso di scultura su legno in Valle Antrona in fase di organizzazione venerdì 18 ottobre alle 21 presso l'asilo di Antrona Piana nei pressi del municipio ci sarà una serata informativa a ingresso libero dove i curatori Pierangelo Rametti e Sergio Bottagisio spiegheranno il programma del corso scopo dell'iniziativa è quello di mantenere in vita un'antica espressione artistica oggi in fase di estinzione insegnando una tecnica manuale ma soprattutto la passione per questa attività presentato nei giorni scorsi a Villa Giulia il ricco cartellone di Verbania Musica quest'anno dedicato alla musica jazz presentata ufficialmente la stagione di Verbania Musica a Villa Giulia a Verbania una stagione molto ricca presidente molto intensa anche quest'anno avete fatto delle scelte importanti per la prima volta abbiamo ci siamo buttati sul jazz un ensemble formato da ragazzi molto giovani tutti di Verbania e noi siamo ben contenti di poterli proporre al nostro pubblico poi abbiamo anche un'orchestra l'orchestra ferrugiara quest'anno interamente si svolgerà al teatro maggiore interamente al teatro maggiore nel foyer abbiamo avuto altre sedi abbiamo cominciato col vecchio sociale di Intra proseguendo poi a Madonna di Campagna siamo transitati anche qui da Villa Giulia e adesso da qualche anno siamo al maggiore ed è un posto splendido per quanto riguarda invece la campagna abbonamenti è tuttora aperta quindi chi fosse interessato a rinnovare o fare un nuovo abbonamento dove si deve rivolgere? esclusivamente alla libreria Alberti per gli abbonamenti sui biglietti non c'è prevendita gli abbonamenti sono 80 euro intero 65 per i ridotti e in quanto ridotti ricordiamo che sono gli iscritti alla Proloco di Verbagna alle settimane musicali di Stresa ai Cori alla Dante all'Iglieri e al Museo una cosa particolare è che i nostri abbonati hanno diritto allo sconto sui biglietti delle settimane musicali di Stresa e del Lago Maggiore ancora una battuta tanta passione intorno a Verbagna e Musica che vi spinge a continuare di anno in anno che tra l'altro è una manifestazione che sta crescendo sono 40 anni dunque Verbagna e Musica è nata come costola della gioventù musicale italiana noi ci siamo affrancati nel 1992 per merito di alcuni primissimi soci ma soprattutto del grande ragionier Achille Ciana che ci ha proprio messo l'anima e dal 92 cerchiamo ogni anno di fare qualche cosa qualche cosa di più di venire incontro anche alle esigenze del pubblico un nostro grande dispiacere è che mancano i giovani in apertura di pagina sportiva il basket per raccontarvi del primo capo stagionale della Paffoni battuta ieri sera al Palabattisti da Gessi che sorpresa alla Palabattisti il derby dei Rubinetti viene infatti vinto dalla Gessi che si presentava a Verbagna ancora senza vittoria al cospetto invece di una squadra che aveva fatto 3 su 3 invece la Paffoni ha giocato una partita largamente insufficiente al contrario Borgossese ha condotto di fatto dal decimo fino alla quarentesimo e ha meritato un successo con parole dure da parte di coach Salvemini nel dopo partita all'indirizzo dei suoi giocatori e in generale anche del suo operato ci eravamo trovati qui tre giorni fa dicendo che poteva sembrare tutto facile siamo stati profetti di sventura coach direi che questa sera ha funzionato poco o nulla credo che tu si è arrabbiato soprattutto credo per l'atteggiamento della squadra tre giorni fa Daniele se ti ricordi ti dissi che di scontato non c'è nulla e poi purtroppo sono stato profete in patria quello che voglio dire è questo oggi faccio tanti complimenti a Valsesia perché secondo me ha giocato una partita ottima mettendo dentro una parte importante dello sport che è il cuore noi abbiamo messo la presunzione e tra cuore e presunzione vince sempre il cuore quindi oggi la dimostrazione di questa partita è cuore contro presunzione vince il cuore perché noi siamo partiti 12 a 2 e abbiamo cominciato a fare i fenomeni e vince il cuore ed è questa la chiave della partita è questa abbiamo fatto tutto con un ritmo che sembravamo a giocare in in postseason abbiamo fatto 5 su 29 da 3 punti scelte di Valsesia tutto quello che vuoi ma non ricordo un tiro contestato però l'abbiamo fatto sempre con il ritmo sbagliato sono gli stessi tiri presi mercoledì sabato con un ritmo diverso e sono andati dentro oggi li abbiamo sbagliati tutti quindi ti ripeto la chiave è cuore e presunzione vince il cuore sempre e comunque e vi ricordo che la telecronaca dell'incontro Paffoni Valsesia Basket Borgossesi andrà in onda stasera alle 21 e ancora venerdì alle 14 nel mondo di A2 delle Bocce Raffa partenza Razzo per il Possaccio e sabato si ricomincia obiettivo serie A1 sottotitolo campionato Raffa di A2 sarà un film lungo da girare come quelli dei tempi del muto 14 rulli uno alla settimana il regista è Dario non Dario Argento no Dario Mazzolini la musica in sottofondo la mette Antonio Riva che ogni tanto si alza dalla sedia e se l'interpretazione non è perfetta interrompe la sequenza e chiede time out vicino a lui Sergio Tosi e anche lui nel gruppo dei giocatori in realtà è l'assistente di studio di Mazzolini controlla le luci verifica la posizione in campo poi ci sono i protagonisti a Tagliuno in occasione della prima uscita hanno fatto capire le loro intenzioni una breve esitazione al primo ciac perso il primo otto della terna poi via di vittoria in vittoria uno secondo set della terna due tre individuale chiappella quattro individuale paone cinque sei sette tocca le coppie signorini paone chiappella campisi morale quando si spengono le luci sul teatro di posa in terra bergamasca c'è un bel sette a uno per i verbanesi e tutti a casa non hanno giocato ma lo faranno presto i bravi Roberto Turuani e Omar Martinoli a Tagliuno il migliore secondo coloro che hanno seguito l'incontro è stato l'inesorabile Nando Paone mentre tra gli avversari se l'è cavata molto bene il veterano di mille battaglie Walter Barilani in prestito dalla cuviese hanno deluso e pur quotati Massimo Bergamelli e Davide Ceresoli sabato le altre gare del girone sono Imprese di Lepiccirillo Edera Marsala L'Aquila Rinascita Sant'Angelo Montegrillo Familiare Tagliuno sabato secondo rullo ore 14 in punto piazzale cartiera 25 ampio parcheggio sala di posa ovviamente rinnovata balconata e tribunetta gratis ma si prega di consumare qualcosa al bar la bocciofila Possaccio gioca la prima in casa telecamere e microfoni pronti arriva la Gialletti con Pagine Umbra che ha pareggiato 4-4 alla sua prima contro l'Edile Piccirillo a proposito negli altri due set del lungo film del campionato siamo nel girone 1 è andata così Edera Marsala L'Aquila non disputata gli ospiti appena ripescati non hanno trovato voli buoni per Palermo rinascita Sant'Angelo Montegrillo 8 a 0 se il buongiorno si vede dal mattino il sole splende sulla bocciofila Possaccio andiamo a ricominciare Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione scopriamo insieme ospiti e contenuti di Sportivamente in onda giovedì come sempre alle 20.35 e ancora domani venerdì alle 18 una puntata speciale di Sportivamente interamente dedicata alla grande impresa di Cristina Piolini che è qui con noi in un posto bellissimo e lo scoprirete guardando la puntata perché non vi voglio svelare nulla perché è un posto magico Cristina magica sei stata anche tu no magica no dai ti sei più divertita e hai fatto più fatica divertita ecco insieme a Cristina in questa puntata sono con noi Ivan e Fabrizio Ivan ha seguito dal punto di vista della comunicazione e della logistica Cristina in questa grande impresa in 20 secondi cosa hai provato tu? una grande emozione forse più di lei ecco e poi c'è chi ha messo non le ali ai piedi però gli sci ai piedi eh no Cristina? sì abbiamo aiutato Cristina a portare un bel messaggio attraverso uno sci che è diventato una specie di cartello pubblicitario non solo un bel messaggio nello sci perché è il messaggio che hai lanciato qual è Cristina? un urlo contro la violenza delle donne un urlo contro la violenza delle donne non perdetevi sportivamente siamo in chiusura per gli aggiornamenti www.vcoazzurratv.it grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti